termina con una sconfitta proprio del Milan contro l'Inter oggi 21 febbraio 2021 il Milan gioca in casa e non fa neanche un gol invece l'Inter ne fa ben tre il risultato finale è di zero a tre ripeto tre i gol compiuti dall'Inter il Milan non riesce a prendere palla spesso e in maniera piuttosto sgraziata non ottiene la vittoria a segnare per l'Inter i tre gol due a firma di Lautaro Martinez il primo al quinto minuto di gioco del primo tempo ovviamente il secondo al cinquantasettesimo di gioco ed il terzo al sessantatesimo di gioco l'ultimo a firma di Romelu Lukaku va come non deve andare per il Milan tanto che non riesce a vincere contro l'Inter la sconfitta purtroppo è coccente di conseguenza la sconfitta è piuttosto palese fa alimentare l'esito ripeto per quanto riguarda il Milan contro l'Inter l'Inter invece la giuante più che mai ottiene una vittoria netta che propone un bel gioco e a tempo stesso affascina non poco bene complimenti all'Inter un saluto cari andro narrato italiano